Thomson dice che la parabola corrispondente all'atomo idrogeno è presente in tutte le foto e immediatamente riconoscibile. Allora è molto facile trovare il valore di Q su M per tutte le altre. Ricordando che gli ioni idrogeno hanno il massimo rapporto Q su M, individua la parabola degli ioni idrogeno, scegli poi un'altra parabola delle foto e determina il rapporto Q su M relativa a questa parabola. Queste sono le varie parabole, qui ho riportato solo per gli ioni positivi, quelli negativi dovrei disegnare le parabole qua sotto, nel quadrante in basso a sinistra. Qui ho immaginato di fissare un tipo di particella Q su M e di far variare i campi E e B, che sono presenti contemporaneamente. Se facciamo aumentare il campo elettrico, le parabole si stringono. Questo è logico perché il campo elettrico causava una maggiore deviazione in orizzontale, quindi farà deviare di più le particelle in orizzontale facendo stringere queste parabole. Del resto lo si vede anche dalla formula della parabola stessa, perché se si aumenta il campo elettrico aumenta il coefficiente A. E sappiamo dalla matematica che una parabola con il coefficiente più grande è una parabola più stretta. Viceversa, se aumentiamo l'intensità del campo B, le parabole si allargano. Questo si vede anche matematicamente perché B sta al denominatore, quindi aumentando B, come indicato qua, cala il valore del coefficiente A e quindi una parabola con A più piccolo è una parabola più larga. Ma questo è anche logico perché B, se si intensifica, crea delle deflessioni verticali più ampie, quindi la parabola si allarga in verticale grazie a queste maggiori deflessioni verticali, cioè queste deviazioni verticali qua. Tuttavia l'esercizio non parlava di campi variabili, ma di campi fissati e di far variare invece le particelle. Quindi adesso fissiamo i campi, scegliamo una particella, dovrei dire un rapporto Q su M, però in pratica vuol dire fissiamo, non so, ioni di un certo tipo di particelle, tipo ioni H più, e vediamo che succede a queste parabole se si allargano e si stringono in base al valore Q su M. Matematicamente Q su M sta al denominatore del coefficiente A, quindi se Q su M cresce, cala il coefficiente e la parabola si allarga. Se Q su M cala, invece, il coefficiente cresce e la parabola si stringe. Siccome gli ioni idrogeno sono quelli che hanno il massimo rapporto Q su M rispetto a tutte le altre particelle, allora Q su M è il valore massimo e quindi la parabola è quella più larga di tutti. La parabola è degli ioni idrogeno, idrogeno ionizzato positivamente, l'idrogeno invece che va a finire in questo ramo della parabola può essere sia idrogeno ionizzato positivamente che negativamente. Se è idrogeno positivo, allora significa che è stato rovesciato il verso del campo B. Se è idrogeno negativo, doveva andare a formarsi di qua, allora vuol dire che è stato rovesciato il verso del campo E. Infine c'è da ricavare il rapporto Q su M anche per le altre parabole. Questa è quella dell'idrogeno e questa è la sua equazione y uguale a z quadrato, l'equazione che abbiamo trovato prima. Cioè A è questo valore qui. Siccome A è inversamente proporzionale al rapporto Q su M, per conoscere il valore di Q su M di queste altre parabole, cioè di queste altre particelle, rispetto al valore Q su M dell'idrogeno, basta fare il rapporto inverso delle aperture delle parabole, cioè del coefficiente A. Come indicato qui, Q su M per esempio per questa parabola qua, Q su M primo, rispetto a Q su M della parabola dell'idrogeno, è uguale al rapporto inverso tra i coefficienti A e A primo, proprio perché il coefficiente A è inversamente proporzionale al rapporto Q su M. Ma questo rapporto tra i coefficienti, cioè tra le aperture della parabola questa rispetto all'apertura della parabola dell'idrogeno, può essere fatto confrontando i valori Y, cioè dal rapporto dei valori Y, per un valore Z fissato. Lo vediamo adesso qui sulla figura. Immaginiamo di fissare un valore Z, per esempio questo, Z uguale a due unità arbitrarie. Dopo vediamo meglio che significa unità arbitrarie. Per adesso quindi fissiamo questo livello di Z, Z assegnato. Allora, il valore di Y, che è questo tratto qua, è a Z assegnato al quadrato. In fondo Z è la variabile indipendente, quindi io scelgo il valore della variabile indipendente, per esempio 2, poi faccio A per 2 al quadrato e trovo questo valore Y. Se lo faccio per l'altra parabola, trovo il valore Y primo, e se lo faccio per la terza parabola, trovo il valore Y secondo, che sarebbe questo. Allora, il rapporto tra Y primo e Y, cioè tra questo segmento e questo, a parità di Z assegnato, è il rapporto tra A primo e A, cioè il rapporto tra le ampiezze e le aperture di queste due parabole. Infatti, a parità di Z assegnato, il confronto tra le Y diventa il confronto delle A. Quindi, riassumendo il rapporto tra Q su M di questa parabola e Q su M dell'idrogeno, è uguale al rapporto inverso dei coefficienti A diviso A primo, i quali però sono nello stesso rapporto di Y diviso Y primo. Purtroppo, però, questa costruzione è difficile da fare sulla fotografia di Thomson, perché, come si vede, certi tratti di queste parabole mancano nella fotografia. Bisognerebbe prendere un valore Z fissato che intercetta tutte e tre le traiettorie, cioè tutte e tre le tracce di queste parabole e non c'è una linea orizzontale che intercetta tutte e tre queste tracce. Allora, bisogna lavorare con una linea verticale come potrebbe essere questa. Cioè, bisogna fissare il valore di Y, quindi una linea così, il valore di Y, per esempio Y secondo, invece che il valore di Z, Z assegnato. Ricavando il coefficiente A dall'equazione della parabola, si trova che a parità di questo valore Y segnato, che per noi sarà Y secondo, il rapporto dei coefficienti A, tipo A diviso A'', è il rapporto inverso di Z quadrato. Quindi, il rapporto A diviso A'' è Z' al quadrato diviso Z al quadrato. Quindi, il rapporto inverso, l'apice sta sopra e A' al quadrato. Certo, con le Y sarebbe stato più facile, con le Z è un po' più complicato, però è possibile trovare una linea verticale, per esempio questa che passa qui, che intercetta tutte e tre queste tracce di parabole. Allora, misurando in unità arbitrarie i punti dove questa linea verticale intercetta le tre parabole, si trova 2, 5,6 e 8,5. Io ho eseguito la misura prendendo questo valore fissato di Y, questo qua, e misurando il valore di Z, che è il risultato 8,5 cm, poi Z' questo 5,6 cm e Z' 2 cm. Eccolo. Quindi il rapporto Z' su Z sarebbe 5,6 diviso 8,5 al quadrato fa 0,43. Questo è il rapporto tra carica massa delle particelle che arrivano qua rispetto al rapporto carica massa delle particelle dell'idrogeno. Invece le particelle che arrivano su questa parabola e descrivono questa parabola più stretta hanno un rapporto carica massa rispetto a quello dell'idrogeno che è dato da 2 diviso 8,5 al quadrato, quindi 0,055. Abbiamo quindi determinato il rapporto carica massa delle altre due parabole in unità dello stesso rapporto per l'idrogeno. Il rapporto carica massa di questa parabola intermedia rispetto al valore degli ioni idrogeno è 0,43. Il rapporto carica massa delle particelle che arrivano su quest'altra parabola rispetto a carica massa dell'idrogeno è 0,055.